Per un minuto onorevole Finanza. Grazie Presidente. Non usciremo da questa crisi con lacrime di coccodrillo, proclami ad effetto, elenchi di buoni propositi sulla fase 2, ma con capacità di adattare le priorità e di rispondere con immediatezza. Quella che è mancata nella prima fase della crisi, quando si è pensato che il Covid-19 fosse solo un problema italiano. Ora è stata garantita flessibilità su conti pubblici, aiuti di Stato e fondi strutturali. La BCE, dopo aver vergognosamente sabotato la Borsa italiana, sta facendo il suo mestiere. Meglio tardi che mai. Poi c'è il pacchetto per il prossimo Consiglio. Lo diciamo chiaramente. Sì al Fondo per la ricostruzione e ai finanziamenti della BEI, no al MES. Lo abbiamo conosciuto e non ci fidiamo. Liquidiamolo e restituiamo le quote agli Stati per affrontare la crisi. Green Deal. Diremo no a nuovi oneri e divieti ideologici contro le nostre imprese già provate dalla crisi. E sì solo a investimenti virtuosi. E infine, chiediamo di difendere i confini. Perché mentre chiudiamo gli europei in casa, non è accettabile che le ONG continuino a spadroneggiare nel Mediterraneo. Grazie.